Oggi noi ci eravamo messi d'accordo con la Marvel, quindi io prima ho sentito il telefono Kevin Feige e gli ho detto, senti, io avrei anche due argomenti. No, Mattia, diciamola bene, ti ha chiamato lui. Sì, sì, mi ha detto, so che tu volevi mettere, però io vorrei fornirti un qualcosa. E ha deciso di pubblicare proprio oggi, tra l'altro in orario utile, quindi non in contemporanea con la diretta, ma più o meno un'oretta prima, il primo trailer di Captain America Brave New World, che poi il 4 non c'è nel titolo ufficiale, ma poi d'altro canto non c'era il 3 in Civil War, è Captain America Brave New World. Solo Iron Man era numerato, nessun altro sequel Marvel è mai stato numerato. Hai ragione, hai ragione, e quindi discutiamone, signor Andros. Guarda, io eravamo nel foyer, prima della diretta, e l'ho guardato proprio mentre facevi l'introduzione, perché non sapevo che un'ora fa fosse uscito. E ti dirò la verità, sono abbastanza incuriosito, più che altro, non so se l'avete notato anche voi, ma ho notato un'atmosfera un po' diversa. Sarà la fotografia, non lo so, però ho notato che c'è qualcosa di diverso, vabbè, adesso il cretino farà la battuta di un attore diverso, e l'ho capito, che è un attore diverso, e quindi va bene. Però l'atmosfera, non so come spiegarlo, c'è un qualcosa, non lo so, mi sembra più thriller. Ti sembra cazzuto. Bravo. Hai racchiuso in una parola tutto quello che volevo dire. Sì, mi sembra cazzuto al punto giusto. Cioè, non troppo, ma neanche troppo poco. Harrison Ford, che ti fa sempre piacere vederlo. Harrison Ford, tra l'altro, per la seconda volta nel ruolo del presidente, quindi ti fa rivenire in mente Air Force One. Il presidente Ford. Terza volta che non fai il presidente. Terza volta? Eh sì. E qual è? Se ci fosse stato il presidente Ford. Indirettamente, passivamente, alla terza volta. Indirettamente, cosa avrebbe fatto il presidente Ford. Io ve lo dico, ragazzi, se mi metto in una scena dove lui è sull'aereo, io godo. Cioè, vogliono proprio sbancare tutto. E lui che si gira, rompe la quarta parete e dice, questa volta non cade. E bellissimo. E subito dove cade? Ovvio, certamente. Quindi nel senso, non lo so, sarà anche la partecipazione di attori tipo Esposito, no? Capito Ford. Non lo so. Cioè, qualcosa di questo film. Ma anche la color, io la vedo diversa. Poi, ovviamente, contate che lo sto guardando, ovviamente, su YouTube è compresso, eccetera. Però mi sembra, mi sembra diversa. È come se avesse un... È cazzuto, ma è cazzuto tendente al serio. Non troppo banalotto, un po'. Cioè, quasi volesse scostarsi un po', ma non di tanto, dal filone cinecomiche, che adesso noi chiamiamo classico, ma classico moderno. Quindi, delle varie fasi, no? Eccetera. Anche perché questa sarebbe la fase centordici. Che fase sarebbe? Cinque. Cinque. Però, non lo so, riesce a convincermi. Cioè, non avevo zero... Cioè, ragazzi, rendetevi conto, se stiamo parlando di faccia di nerdo, appunto, ci sono due trailer e tutte e due... Cioè, qui, tipo, miele, eh, questa puntata, non riesco a trovarli a parte... Ma anche gli effetti visivi, ora, anche lì, se ne è parlato, ne abbiamo parlato veramente tanto degli effetti visivi dei cinecomiche, ma anche dei più blasonati, eccetera. Ci sono punti alti, punti bassi. Anche qua, ci sono dei punti che sono più bassi di altri nel trailer, e ripeto, anche qua, un trailer comunque visto, compresso, eccetera. Però, quello che sono riuscito a vedere è una coerenza in questo trailer che mi ha positivamente impressionato. Cosa che condivide col trailer del gladiatore. Premesso che il trailer del gladiatore, se io devo fare la classifica odierna e li metto tutte e due, il trailer del gladiatore proprio lo guarda dall'alto in basso così e gli dice «Torna a casa, stronzetto». Però, è un bel trailer anche questo. Ho voglia di vederlo? Sì. Quindi, per me, è un buon trailer. Gio. Ma grande. Allora, prima di cominciare... Eh. È un po' di pari. Eh, vabbè, giusto. È anche quello di Sam, questo. Non è quello di Steve. Quindi, ancora di più, si sente preso in causa. Sì. Allora, trailer mi ha convinto, molto, ma a me già l'idea di fare un Capitano America 4 con protagonista, il Capitano America di Sam, mi andava benissimo. Infatti, Falcon e Winter Soldier ha preparato questa cosa, quindi ero già pronto, non aspettavo altro. E l'atmosfera poi ricorda molto quelle degli altri film di Cap, Winter Soldier e Civil War, anche perché gli sceneggiatori dovrebbero essere gli stessi. Questo non lo ricordo, francamente. Io ho controllato prima, se non sbaglio, sono gli stessi regista e lo stesso di Falcon e Winter Soldier. E, che dire, intrigante come si sta preparando il rapporto tra Sam e il generale presidente Ross Barraford. Già metto le premesse che vogliono reintegrare Capitan America come il super soldato che era all'inizio l'idea originale, non come super eroe. E quindi si comincia a creare un conflitto alla Civil War. Cioè, io va bene, io vengo a lavorare per voi, ma poi siete voi a decidere io quando devo intervenire e come devo fare. Molto Civil War, molto Winter Soldier per le cospirazioni. Si vede Isaia che cerca di attentare alla vita del presidente, quindi si crea un mistero. Vediamo, se non sbaglio, il leader di schiena con il cappello che minaccia o parla di Sam. Intanto ti devo correggere perché gli sceneggiatori... Abbiamo uno sceneggiatore di Falcon e Winter Soldier. Uno sceneggiatore di Moon Knight e un altro sceneggiatore di Falcon e Winter Soldier. Quindi hanno scritto la serie, mentre il regista per il momento nella Marvel non ha fatto nulla. Ah, credevo fosse lo stesso di Falcon e Winter Soldier. No, 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 è Julius Ona. Ok. E quindi che stavo dicendo? Spoiler, anche lo sceneggiatore di X-Men 97 aveva scritto Moon Knight. Capita. Eh, dai. Poi attenzione, Falcon e Winter Soldier aveva delle cose che funzionavano. Poi la serie in sé non era bella, però comunque c'erano delle cose interessanti dentro. Diciamo che il problema nel giudicare l'operato proprio degli sceneggiatori di quella serie è che l'hanno dovuta riscrivere in fretta e furia a causa pandemia. Perché la trama originale era attentato con un virus, solo che c'è stato un problemino. Sì, sì, questa cosa è confermata. Sì, sì, questa cosa è confermata. Infatti, come cazzo si chiama? Gli Flag Smashers, quattro puntate parlavano in un cortile. Certo, poi non è che il resto della produzione Disney Plus fosse tanto diversa, eh? Un saluto a Diacolite. Però... Bellissima serie, proprio. E poi, vabbè, Ford mette subito la premessa, sì, ho cambiato look. Vabbè, l'abbiamo capito, però comunque la presenza di Ford è quello che è. Appare Giancarlo Esposito più di quello che mi aspettavo. Lui dovrebbe ricoprire un ruolo alla Batroc in Winter Soldier o come Crossborn in Civil War. Lui è Bridge. La minaccia iniziale. Però mi fa piacere vederlo perché gli voglio bene a chi non gli vuole bene. Poi, vabbè, abbiamo un primissimo... Per un istante si vede la figura del gigante rosso. Ma lo possiamo dire per i fan del fumetto? Non mi ricordo, su questo canale teniamo il segreto dell'elefante della spanta. Mi sembra il segreto di Pulcinella. Vabbè, non sarò io a smontare la cosa. Se non sbaglio, nell'immagine di anteprima di questa puntata si capisce chi è. Un ricordo male l'immagine anteprima. No, è preso dal fumetto. È preso dal fumetto. No. E che dire, sono fomentato, ma è solo un teaser. Immagino che dopo ci faranno vedere se ci sono altri personaggi, altri comprimati. Sam è il protagonista del trailer e così va bene perché lui è Capitano America, il protagonista del film. E mi dà proprio l'aria da Capitano America. Si ha preso in pieno il ruolo e lui il protagonista del trailer lo si vede volare, spaccare tutto con le ali. Fantastico. Forse vola al fianco alle dita di Tiamut, il titano, il celestiale congelato. Vedremo. È intrigante. Davvero sono preso. Ma lo erogiamo forse di più. Vedremo, vedremo. È solo un teaser. Abbiamo poco da dire purtroppo. Travatar. Allora, è un trailer che nel complesso mi è piaciuto con Arcandros inaspettatamente. Purtroppo stai laggando tanto. Puoi provare a uscire e rientrare perché... Però sono d'accordo con quello che ha detto finora. Oh, come buono. L'equip. Hai noi. Riprova. Allora, dicevo. Il trailer tutto sommato mi è piaciuto, ma concordo con Arcandros mi ha fomentato di più il Gagliatore 2. Per dire, per dire, considerando che non mi interessava neanche il Gagliatore 2. Quindi complimenti al Gagliatore 2. Detto questo, allora, è un trailer in cui il grosso pregio può anche essere il difetto. Ovvero, come ha già detto soprattutto Joe, è un po' Winter Soldier, un po' Civil War. E che da un lato è un bene perché dopo molti film con delle direzioni in cui, soprattutto lo humor, per carità tipico della Marvel, andava veramente in over humor, esagerando, qui mi aspetto battute, mi aspetto cose divertenti, ma mi aspetto robe più contenute, alla Civil War e soprattutto alla Winter Soldier, in cui si rideva ma in maniera controllata. Quindi in questo è anche un bene, soprattutto in questo periodo di Marvel traballante, ritornare a qualcosa che nel 2014 diede un'enorme spinta alla Marvel, ovvero appunto Winter Soldier. Detto questo, però, c'è anche il rovescio della medaglia, ovvero, essendo appunto una saga, non solo K, ma in generale tutta la Marvel che va avanti da anni e anni, da un lato ti viene da dire, ma l'ho già visto. Appunto, un complotto, l'ho già visto in Winter Soldier, un K dubbioso sul governo, l'ho già visto in Civil War, ok, un altro Capitano America, però potrebbe suonare una minestra riscaldata. Dipende tutto, ovviamente, da come lo gestiscono, però questo è il mio dubbio, che poi il film dovrà smentire, se il film lo smentisce, sono contentissimo. Poi, ho adorato particolarmente, però, la sequenza d'azione finale, quando si vede lui in mezzo a questi aeree, è veramente spettacolare, e conferma quello che ho sempre detto, doveva diventare Sam, il nuovo Capitano America, anche solo per un motivo, un Capitano America volante da via a ta delle scene d'azione che non avremmo mai potuto vedere con quello scudo che può volare, eccetera. Quindi, io sono molto contento che Sam sia diventato capo. Purtroppo, Falcon e Winter Soldier, un po' per il post-fase 3, che è stato quello che è stato, un po' per la pandemia che ha zoppato il tutto, purtroppo, dopo una prima puntata bomba, con quella bellissima sequenza d'azione, Falcon e Winter Soldier non ha potuto sfruttare bene questo personaggio, anche a livello caratteriale l'ha reso un po' stronzo. Infatti, io spero nominino quella serie il meno possibile. Tanto, rendiamoci conto, anche se lo arriva lì col costume che ha tirato fuori in Falcon e Winter Soldier, nessuno si chiederà dove l'ha tirato fuori. Penseranno tutti, ah beh, si sarà fatto il costume dopo che Capitano ha dato lo scudo, quindi non c'è bisogno di conoscere. Mi sembra difficile, c'è anche un personaggio originale della serie, verrà nominato a più volte. Eh, abbiamo fatto un'avventura insieme, due minuti, non penso però che diranno proprio, oh sì, sapete, no, John Walker, Vandalision era un po' più problematica, se ci pensavi. Tocco strange. Esatto. Ma diventerà molto più difficile in Thunderbolts, dove c'è US Agent, che valla a scusare. Eh, poi sarà quello l'unico problema. Ma, beh, lì vedremo. Io spero però che qui almeno ne parino il meno possibile. Non dico decanonizzarla perché è impossibile, ma... Non ricordiamo roba brutta. Comunque, appunto, quella sequenza mi è piaciuta tantissimo. Hulk Rosso. Vabbè, sapevamo ci sarebbe stato. Allora, in quei 30 secondi in cui si vede, l'avete letto prima, trailer, compressi, la CGI, boh. Però aspetto di vedere il teller al cinema. Aspettiamo di vedere pure Wolverine, intanto il teller lo mettono. Vediamo se lì convince di più, perché tanto, a meno, molti di noi lo vedranno all'Arcadia, e quindi lì lo vedremo con la miglior qualità video possibile. Io posso farvi una domanda? Sì. Da ignorante totale sui personaggi, poi la loro... Hulk Rosso, cosa vuol dire? Che è un Hulk Rosso. L'hai visto? Che è Hulk con un altro film. Non hai fermato il trailer quando è apparso il titolo del film, vero? Sì. Eh, non ne vedi. Vale. Ok. Che è un Hulk Rosso. No, ma che cosa vuol dire nel senso... Vabbè, quello... È un Hulk Rosso. Che però non è Bruce Banner rosso. Ah, ok. A posto. Molto più. Ma lo specifichiamo. Non diciamo chi è, ma non è Bruce Banner. Non è Bruce Banner, però. No, no. C'è anche il Hulk Grigio. Ci sono diversi colori, in realtà. Ma sapete perché l'ho stoppato prima? Perché siccome non era il trailer in ufficio, sapete che prima o dopo mettono sempre un sacco di merda? Ecco, ormai quando vedo il titolo mi fermo. Devo imparare a guardare anche dopo, perché... Sì, tipo, qual è quel canale che mette sempre 30 secondi di autopubblicità? Non mi ricordo. Sì, ma un po' ne mettono. Lo salutiamo comunque. Sì, sì, salve. Sì, sì, no, sono d'accordo. Non fai pozzire neanche. CGI, meh, ma vedremo. E poi, anche lì, può essere sia un bene che un male, Hulk Rosso non è molto da Winter Soldier. Nel senso, Winter Soldier era un film con i piedi per terra per essere un cinecomic Marvel, quindi tutte le virgolette del mondo, i piedi per terra. Però chiaramente c'erano esagerazioni, ma appunto non c'erano alieni o robe del genere. Quindi, questa cosa politica potrebbe risultare un po' troppo con Hulk Rosso? Cioè, potremmo andare un po' fuori tema? Forse sì, forse no. Lato positivo potrebbe differenziarlo da Winter Soldier, proprio perché Winter Soldier, questa componente così esagerata, c'era fino a un certo punto. Vediamo. È un film che se la deve giocare bene. Trailer carino, però resta un attimo sul chi va la spero più che altro che mi riabilitino Sam, che a me è sempre piaciuto tanto. Ho amato quando Kappa ha dato a lui lo scudo e vorrei vederlo riabilitato dopo il fallimento della serie. Svet! Ah, scusate, mi stavo facendo i cazzi miei. Allora... Sarà contento Travatar che ha parlato fino adesso? No, 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 in realtà... Perché stavo scrivendo Pedro Pascallo, dai, su. No, no, in realtà i cazzi miei consistevano nel riguardare il trailer, vi dico la verità, perché... Ve lo dico, è la terza volta che lo guardo e sto cominciando ad apprezzarlo, ma secondo me è più come le canzoni tormentone. Cioè, che di base ti fanno cagare, poi però più le ascolti, più le ascolti, più le ascolti, quasi ti piacciono. Cioè, a parte che le odia, quasi ti piacciono. E... Primo impatto, vi dico la verità, mi aveva lasciato anche piuttosto tiepida come trailer. Non perché fosse fatto male, ma probabilmente un problema mio ed esclusivamente mio. Però posso dirvi le cose che magari ho notato che sono evidenti. È come se stessero provando a mettere una linea di demarcazione fra le cazzate fatte in precedenza e quello che vogliono fare da questo film in poi. Cioè, come se fosse una fase nella fase. Una nuova fase della fase 5. Insomma. Perché secondo me forse sarebbe uno di quei casi in cui i reshoot non hanno fatto assolutamente male, anzi, hanno magari salvato una situazione che prima era assolutamente indecente. soprattutto dopo il casino che c'è la sovrabbondanza di contenuti che abbiamo avuto, compresa la presenza di quella serie ignobile Captain Falcon. Captain Falcon è quello di Nintendo, scusate. Eh, Falcon e Wings and Sons. Chiedo scusa, chiedo scusa. Ehm, però qui vi dico, vi dico le cose positive. Perché l'unica cosa negativa è mia, è totalmente mia e personale ed è per lo più legata alla mia saturazione nei confronti dell'MCU. Quindi quella la mettiamo da parte per un attimo. Mh, come ho detto, lo vedo più fresco. Eh, vedo che c'è la voglia di raccontare qualcosa che magari non è nuovissima come cosa, ma chi se ne frega. puntano moltissimo sulla personalità dei personaggi. C'è anche il meme che continua da 30 anni del presidente Ford ed è ora più che mai è perfettamente consapevole la cosa. Se non sbandierata a più riprese. Tra l'altro il piano, credo che sia il piano del cattivo di una palottola spuntata. Quindi siamo proprio, se non mi sbaglio, del 2, eh? Sì. Sì. Sì, secondo me lo fanno in chiave seria, ma è tutta una citazione. Ma è vero. Sì, 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 sì. Io sono, sono, ne sono fermamente convinta. Davvero. Quando l'ho visto ho detto, ma cazzo, il piano del mio palottolo spuntato. Più c'è il presidente Ford, quindi a lei, proprio. Però una cosa è successa. Mi ha riacceso un minimo di curiosità. Cosa che non capitava da un sacco di tempo? Da prima di Shang-Chi, probabilmente. Forse anche... Da, da Eternals non mi capitava questa cosa. Ovvero di provare un minimo di curiosità nei confronti di un prodotto Marvel. Questo fa capire effettivamente quanto abbiano dato fastidio. Quindi Guardiani della Galassia 3 non... Era già un periodo dove ero talmente satura. Per quanto mi sia piaciuto Guardiani, però quando stavano arrivando le novità su Guardiani, quindi tutta la campagna marketing, eccetera, io l'ho accolto proprio tiepidamente. Cioè, mi ha fomentato, però... È un po' come un... Sì, vabbè, però... Che palle! Mi sembrava un voler portare avanti la festa quando in realtà per terra già c'erano i bicchieri vuoti e i festoni caduti. Mi sembrava una cosa del genere. Ma che metafora che sono? Tu mi devi tenere! Altro che... Altro che Michele Innocenti. Ma che cazzo te ne fai Michele Innocenti? Concludo dicendo che... E' anche un po' lo stesso piano di Zoolander ora che mi viene in mente. È vero, è vero. È vero, è vero. Concludo dicendo che... Sono... Lo andrò a vedere sicuramente anche per passare una serata serena all'Arcadia. È sempre bello andare all'Arcadia. Vedrei anche quella merda di... di Omen, l'ultimo di Omen, che per me è stato uno dei film più brutti che aveva mai visto. Però quella sala è magica. Ti rende anche il film più brutto, ti fa pensare, però dai, ne è valsa la pena, anche solo per l'impatto visivo. Ed è un caso più unico che è raro per quanto mi riguarda. Quindi sono molto felice. Sono anche felice di andare settimana prossima a vedere Deadpool, per esempio. però se effettivamente va come penso io, ovvero che con questo film vogliono dire stiamo tornando con qualcosa di effettivamente interessante, con un Captain America che non è semplicemente un sostituto, ma è un passaggio di testimone con una grande personalità, allora sarò ben felice, ben contenta. Quando è prevista l'uscita? Non mi ricordo. Mi sembra febbraio, 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 febbraio. Molto, molto contenta, molto contenta. Cioè una parte di me è contenta, un'altra meno. Victor! Allora, a me è piaciuto tanto, da persona non molto convinta, perché come sappiamo questo film ha avuto delle vicissitudini produttive che erano indifferenti, è stato annunciato quando c'era ancora la gestione JPEG, è stato girato, più o meno in quel periodo, poi è arrivato Bob Iger, ha cambiato un po' le cose, hanno rigirato il 70% del film, a quanto pare, perché pare che degli screen test non avessero convinto moltissimo, non erano soddisfatti comunque del risultato. Infatti, volevo spiegare che per questo motivo che si parla di un budget gonfiatissimo. Eh sì, perché l'ha praticamente girato due volte. Considerando che l'uscita a febbraio, io aspetterei, prima di prendere per oro colato i numeri che hai già trovato adesso, aspettiamo gennaio, aspettiamo febbraio, ad ogni modo non stupitevi se vi diranno che è costato un bel 300 milioni anche questo, e non qualcosina in più, perché sì, l'hanno girato due volte a conti fa. Secondo me è un film molto importante per la MCU, perché? Proprio perché tu prima hai citato Guardia della Galassia, adesso esce Dead Pool e Wolverine, Guardia della Galassia è andato molto bene, ha superato le 800 milioni, Deadpool e Wolverine per me farà abbondantemente il miliardo, magari poi mi sbaglio, però non lo so, però secondo me non sono i film da prendere per capire come sta andando avanti l'MCU, perché sono degli unicum, perché Guardia della Galassia era la fine della trilogia, Deadpool e Wolverine è una cosa molto particolare, è la prima volta il Deadpool e l'MCU con Wolverine interpretato di nuovo da Hugh Jackman, quindi è un evento, quelli sono un po' degli eventi. Sono film come questo che bisogna vedere come verranno precipiti dal pubblico, perché questo comunque ha un tono nel trailer che mi ha ricordato tanto The Winter Soldier, come dovrebbero essere i film di Capitano America alla fine, perché non sono sempre molto politici, c'è tanta fantapolitica, Stem, che in The Falcon and Winter Soldier aveva il carisma di una lattina di Pepsi, qui invece l'ho trovato molto più carismatico, cioè come Captain America non mi dispiace, come l'ho visto in The Falcon and Winter Soldier non lo so, tra l'altro sembra che ci siano dei bei collegamenti, perché vediamo Isaiah che sospetto sia controllato in qualche modo perché sta mette in atto un attentato sostanzialmente, quindi non penso sia in sé, bisogna capire un po' perché pare che ci sia la Serpent Society in sé capito bene, mi piace il fatto che non ti dicano per bene su cosa verta la trama, è ovvio che Ross non è molto pulito, sembra molto evidente che non sia particolarmente buono anche perché se è come nei fumetti Luc Rosso dovrebbe essere lui, quindi beh, abbiamo evitato di dirlo fin qui, eccomi, vabbè ho capito, ma ragazzi sta scherzando, sta scherzando, ma che spoiler, ma per favore, scusami, attenzione, attenzione, nei fumetti è così, ma Alcaldro si è scioccato, ma no, ma no Victor ti spiego, io sono d'accordo con te, però ho visto gli altri che cercavano di girarci attorno, di fare i buggy, infatti io non capivo se si poteva dire o no, perché dico adesso, però attenzione, nei fumetti è così, io non escludo che ci facciano credere che sia quello, e poi non è lui, attenzione, non si sa mai, io non so se voglio più, bello che Victor ha cercato di riprendersi, dice ma sai, Porto non è cazzo, ma via, la tua banner è rotta, lo ripetiamo, quando sono arrivate le news lo ripetevamo da settimane, da mesi, ma sì, infatti, poi magari nel prossimo trailer si vede proprio, è come dirmi che è uno spoiler che Bruce Wayne è Batman, cioè per cortesia, Cristo, no, no, io non lo guardo più, che cazzo è Batman? Ma lui era Gordon Batman, che cazzo mi dici? Ho capito io, però, quello che mi è piaciuto, allora, c'è Giancarlo Esposito che interpreta, il personaggio dovrebbe essere Bridge, quello che so, che è un personaggio minore dei fumetti, però, io spero che sia un po', che sia un po' più presente che come, come diceva prima, ci si diceva prima all'inizio, non lo so, perché mi sembra che abbia anche delle altre scene, non ha solo, cioè non mi sembra sempre la stessa scena, mi sembra che sia più scene, quindi non lo so, vedremo, non è importante alla fine, se l'interpretazione è buona, è buona e basta, anche se compare cinque minuti, quindi, insomma, a me ha dato molto le vibes da The Winter Soldier, mi fa piacere rivedere personaggi come Isaiah Torres, che è palesemente la nuova spalla, perché in molti si sono lamentati, ma insomma, un Captain America senza Bucky, Bucky è nei Thunderbolts, si sta facendo, Bucky tra l'altro non è neanche più, il salato d'inverno adesso è diventato il White Wolf, quindi ormai Bucky ha il suo corso, non è più una spalla neanche lui, così come non è più Sam, e sarà un protagonista in Thunderbolts, per cui metterlo come spalla di K in questo film non avrebbe il minimo senso, la nuova spalla è Torres, va benissimo, ora, mi piace anche la battutina che hanno fatto all'inizio, eh mi devo abituare a questo look, eh no ma, è che mi sono tagliato i baffi, quella cosa mi ha fatto merda ridere, finalmente sapremo cosa avrebbe fatto il presidente Ford, a quanto pare, e Harrison Ford alla fine, come dicevo prima, dove lo metti, fa bene, nel senso che ha sempre ormai negli ultimi anni questo viso da chi è lì solo, per i soldi, però è talmente carismatico che funziona, cioè c'è il momento in cui applaude, che se mette fuori immagine, boh, è inquietantissimo, ha proprio una faccia che funziona, per cui, nel ruolo del presidente, oltretutto, è perfetto, soprattutto adesso, che è invecchiato, quindi onestamente io sono molto curioso, la scena con l'Urocrus, alla fine, è interessante, tra l'altro, sembrerebbe, che in alcune scene si intraveda il fottuto celestiale pietrificato in mezzo all'oceano, ci sono delle scene nell'oceano dove c'è questa struttura, che molti hanno fatto notare che è molto probabilmente una delle dita del celestiale, quindi, già il fatto che lo tirino fuori, ma l'avevano detto, i leak avevano detto che forse avrebbero tirato fuori il celestiale, io sono, io ero lì che mi interrogavo veramente tra l'altro, sì, lo so, lo so, però, già che c'è, tra l'altro, non ho sentito nessuno commentare una scena che a me ha abbastanza lasciato di stucco, quando Sam, con un colpo, stempia mezza Casa Bianca, mi hanno detto, minchia, ma non credo che sia Sam, è un gioco di montaggio, secondo me, è l'Ulc Rosso, vabbè, 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 allora, attenzione, la cosa che dicevo non è che non verteva su chi lo fa, ma su quello che succede, cioè vedere la Casa Bianca spazzata via per metà, fattando Independence Day, anche di quella roba lì, poi dovranno parlare in tutti i film, in te, regà, la Casa Bianca segata in due, direi proprio che è una cosa che, in Secret Wars, che sono lì nel multiverso, la Casa Bianca, chi l'ha ricostruita, l'ingegnere, sì sì, no, però diciamo che io capisco un attimino, capisco che a molte, no, però io capisco che molte persone giustamente dicevano, ma nessuno fa, cioè, diciamo che un evento come un gigante di 600 metri che è affiorato nell'oceano, magari, non so, un notiziario che lo dice, cioè è un evento, un filo importante, al momento che stava per aprire in due il pianeta come una pallina da tennis, però, al di là di queste che sono piccole, però Victor, siamo onesti, strani fenomeni che rischiano di distruggere il pianeta, cioè ormai nell'MC lo chiamano martedì sera, no, no, è vero, capisci che sono strani fenomeni, si ricostruisce e basta, ma qui nell'oceano c'è un gigante di pietra, insomma è un po', però, al di là di, non so, io ci farei una specie di Gardaland, con le montagne russe tra le dita, queste cose, io sfrutterei, è un trailer che mi è piaciuto tanto, l'ho apprezzato molto, non mi sarei mai aspettato di apprezzarlo così tanto, mi è piaciuto tantissimo il montaggio, ha un montaggio alla fine di Paul Greengrass che secondo me è molto interessante, quindi se prima non avevo grandi aspettative, adesso quantomeno ho una certa curiosità, detto questo io vi devo lasciare perché devo prepararmi che vado, devo andare a uno festival, quindi ci vediamo alla prossima, grazie ragazzi, non è latino americano, è un festival, ciao ragazzi, ciao ciao, ciao a Vicky, intanto mi ha fatto ridere che qualcuno in chat ha detto forse questa cosa del celestiale pietrificato si vedeva in un articolo di She-Hulk, è una domanda bellissima perché presuppone che qualcuno si ricordi qualcosa di She-Hulk a parte la merda, no? Io sì, c'era un articolo che ne parlava in She-Hulk, meno male, meno male She-Hulk, migliore serie Disney Plus, infatti è migliorata per quel motivo lì, perché c'era il collegamento, meno male, con una retrospettiva, questo film in realtà mi lascia abbastanza tiepido con tutto che ho visto il trailer addirittura due volte, cosa che di solito non faccio mai, ma perché già dopo una volta me l'avevo praticamente dimenticato, ho detto ma cos'è che ho visto? L'ho riguardato ancora una volta, ma più che altro è la serie The Falcon and The Winter Soldier che mi ha distrutto i personaggi di Sam e Bucky, cioè in questo momento se Sam e Bucky cadono dalle scale, si rompono il collo, a me fa solo piacere, ma è anche vero che di recente House of the Dragon ci ha dimostrato che anche se dei personaggi ti fanno cacare, se è scritto bene qualcosa puoi rivalutarli, quindi non sia mai che questo film mi fa rivalutare Sam che magari come nuovo Capitano America non fa un discorso banale, cioè io voglio che faccia un discorso leggermente superiore rispetto a i potenti sono cattivi, non ci pensate alla gente comune e tu quelle soluzioni hai adesso me ne vado ok, questo era Alex, possiamo dircelo? Marvel, puoi fare di meglio puoi fare di meglio, esatto, a me in realtà a parte che mi dispiace un sacco che si chiami Brave New World a me piaceva Serpent Society cioè era bellissimo come titolo però va bene aspetta, Serpent Society era Civil War questo originariamente si intitolava New World Order Nuovo Ordine Mondiale ora ci sono ancora con Enzo Iacchetti tu pensa esatto era il titolo vero che era anche il titolo dell'episodio pilota di Falcon and the Winter Soldier era il suo titolo era il suo titolo sarebbe stato divertentissimo l'avessero confermato andare avanti presentato a Comicon era il titolo finto di Civil War sì sì però era associato a quel progetto lì pensate pensate un cameo del commissario Torre in questo film sarebbe incredibile che ci racconta la sua storia ma queste sono altre cose che non ci interessano quindi in realtà a me è un po' come il credetore non stiamo parlando di fisica quantistica cioè a me basta che sia un film ricco di azione io vorrei una cosa la Winter Soldier quindi un sacco di azione una trama di spionaggio di complotti fatta bene che non mi faccia dire tutto il tempo ma questa cosa non ha senso però nonostante tutto dal trailer sembra sembra un film con i piedi per terra spero che venga citata citato il miglior personaggio della Marvel ovvero Mamadonia che tanto ci ha colpito la sua morte in The Falcon e Winter Soldier quindi speriamo che la citino in qualche modo detto questo poi l'ulk rosso alla fine mi ha lasciato abbastanza indifferente per me il miglior Hulk rosso della storia del cinema è quel tizio nella leggenda degli uomini straordinari che si beve troppa pozione del dottor Jekyll assolutamente vero non questa cosa qui tra l'altro Hulk rosso è per forza di cose il presidente Ford perché sennò perché si è tagliato i baffi sennò Hulk rosso col mustaccio non va bene questa cosa qui anche se i rumetti li aveva ma quando si trasformava gli sparivano ma siccome mi sono resi conto che il live action sarebbe stata una merda e tu tagliamogli volevo farti contento Alex questa è mamadonia credo la sua unica inquadratura che però è rimasta memorabile no no mi commuovo troppo toglila perché mi sto mettendo la schiena basta basta ho finito col film signor F si diciamo che è arrivato questo trailer e praticamente io sinceramente come dice Anderson l'ho visto cazzuto è come se avessero voluto dare un taglio un po' diverso poi dovevamo capire che misura andro se l'ha detto perché gliel'hai suggerito tu quindi c'è stata una una sinergia è stata una beccata mia si esatto condividiamo lo stesso pensiero solo che io gli ho dato voce e quindi praticamente vi dico mi è piaciuta la costruzione della tensione questo trailer parte ci sono questi glitch che alternano scene proprio nel mentre che Sam e il presidente si incontrano quindi c'è già una costruzione della tensione anche per quanto riguarda il loro rapporto ci sono delle frasi taglienti quindi se io non dovessi essere d'accordo con lei che facciamo solo che poi il trailer va vediamo questo Isaiah Bradley che sbrocca prova ad ucciderlo quindi si sta muovendo qualcosa c'è questo proprio quest'aria da thriller e di non voler di non voler fare battute perché in realtà di battute non ce ne sono la CGI per quanto riguarda la CGI in generale è un trailer rimontato da quello che avevano mostrato al CinemaCon al CinemaCon avevano mostrato roba di cui non avevano fatto i reshoot qui hanno inserito i reshoot c'è Giancarlo Esposito quindi è ovvio che immaginatevi fare degli effetti speciali provvisori degli effetti visivi provvisori per qualcosa che è girato il mese scorso cioè quindi è quello lì speriamo che poi vadano a migliorare certo dicevano la stessa cosa di Modok al Comic-Con per febbraio dopo però Modok era un problema già concettuale però mi aspetto grandi cose dal punto di vista del gioco che vogliono imbastire senza cercare di spoilerare vediamo il capo che non si vede cioè te lo fanno vedere per adesso di spalle lui parla anche diciamo con questa voce insomma mi ha mi ha colpito il non il non voler confezionare un trailer tipico dei Marvel Studios non riesco a capire come come sia possibile cioè mi dà quella sensazione quelle vibes da stiamo cambiando un po' poi magari sono io che forse perché ne abbiamo parlato talmente tanto di stare in modulazione creativa ovviamente Cap è quello che soffrirà di più di questi cambi perché due settimane due mesi in realtà di reshoot sono tanti per un film che hanno visionato completo hanno detto ma sai che è una menghia quindi vediamo dal punto di vista della distribuzione hanno fatto bene secondo me a distribuirlo adesso perché sta arrivando Deadpool e Wolverine che coinvolgerà talmente tanta gente se questo film è costato 300 milioni la gente deve prendere l'entusiasmo che da cui riemergerà dalla visione di Deadpool e Wolverine e trasferirlo al prossimo film ma bravissimo io prima ho letto cavolo però è uscito con tanto anticipo in realtà è uscito in tempo per essere allegato alle copie di Deadpool e Wolverine che arriveranno in sala e soprattutto per quanto risulti strano dirlo è il prossimo film Marvel eh sì dopo Deadpool e Wolverine c'è questo non hanno nient'altro da promuovere evviva hanno questo film che arriva a febbraio dell'anno prossimo e devono cominciare a farlo entrare nella capoccia e così tu lo puoi distribuire già con le pro con Deadpool e Wolverine con Mufasa con Oceania cominci davvero a martellare perché c'è bisogno veramente di il Disney pre-show e sì è anche abbastanza intelligente farlo vedere adesso anzi io fossi in loro questo trailer lo metterei pure nel Blu-ray di Deadpool e Wolverine come si faceva un tempo che nei Blu-ray mettevi anche il trailer adesso i Blu-ray li copriamo in pochi però quei pochi io glielo ricorderei eh tra l'altro dal punto di vista della campagna marketing io l'avevo ravvisato per qualcosa un po' per i trailer di Deadpool e Wolverine ma qui già mostrano mostrano roba cioè non è che sai di trama si sa poco però sai che c'è Red Hulk vedi intravedi il capo Tiamut questo magari per noi perché la gente magari vede solo il trailer non capisce niente però Red Hulk alla fine del trailer c'è qualcosa di grosso te la stanno mostrando e secondo me è buono sbilanciarsi un po' di più meglio allontanarsi dall'ultimo trailer che poi non doveva esserci di The Marvels il giorno prima perché vabbè ormai è andata sto film invece no è meglio cominciare un po' a sbottonarsi perché la gente intanto ha scoperto dell'uscita di questo film perché questa è una cosa che noi non dobbiamo considerare e cioè Falcon e The Winter Soldier il pubblico generalista non l'ha vista non sa nemmeno della sua esistenza l'ultima volta che ha visto Sam è stato nel 2019 quando ha preso lo scudo direttamente da Steve Rogers e poi non l'hanno visto più e magari qualcuno si è domandato ma che fine ha fatto quel tizio lì sì è vero c'è Isaiah Bradley magari avrà anche magari avrà anche un ruolo di spicco cioè lo vediamo lì però forse ci sono alcune cose che non mi convincono e che spero che abbiano corretto con il reshute sono proprio la questione villain e alcune cose che forse un po' mi lasciano così perché poi quando avremo modo di vederlo io voglio vedere se quella cosa rimane nel nel montaggio finale dico ma com'è possibile che è lasciata nel montaggio finale questo è veramente delle cose assurde poi vediamo però per adesso c'è volontà di fare bene e sinceramente mi piace mi piace anche vedere Sam a me piace Sam in realtà Falcon and the Winter Soldier è vero che non è stata proprio il giusto trampolino di lancio per Sam Wilson però a me Anthony Mackie almeno in questo film hai la possibilità come ha detto anche Alex hai la possibilità di sistemartelo di giocarci un po' anche con il rapporto col nuovo Falcon poi lì si parte ovviamente a cercare sempre quello che non c'è ma ci sarà Steve Rogers anche se è vecchio anche se è buttato tipo non si è stato ci sarà vedremo però il trailer ruota attorno a lui c'è pure la battuta che avevano già mostrato al cinema con tu non sei Steve Rogers e lui che risponde no non lo sono e poi lo vedi un po' cazzo quindi dai 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 sono contento ma lei che ha già visto il film abbiamo visto cosa un 10-20% della pellicola nel trailer si vabbè non ti hanno detto proprio niente in realtà niente anche se c'è una camera che si vede in un sottosuolo dove Sam e Falcon vanno a vedere roba sembra una camera della tortura poi vediamo dunque ho notato che in generale questo trailer ha entusiasmato a me è piaciuto ma non a livello mi strappo i capelli peli pubici che roba eccezionale ma forse perché sapevo anche quello che mi sarei trovato davanti e qui ne approfitto per rispondere magari a qualcosa che nel frattempo ho letto mentre parlavate e che trailer banale si sapeva già tutto ma sapevamo già tutto noi che magari ci siamo fatti le pippe sulla descrizione delle scene del Comic Con anzi del Cinema Con perdonatemi a livello pubblico non si sapeva niente se pensiamo al target a cui ho rivolto questo trailer non si sapeva neanche dell'esistenza del film quindi è tutta roba nuova è roba che è anche piacevole vedere non solo forse qualche tempo fa l'ho detto perché io sono della stessa politica del signor F i trailer che non dicono niente hanno rotto un po' le palle ma non perché ci stanno antipatici è perché non funzionano più in questo momento particolare della storia del cinema non funzionano più questo non significa che mi devi raccontare tutta la storia ma mi devi dare degli spunti emotivi sui quali basarmi quindi si vede già Red Hulk secondo me possiamo ancora nella vecchia scuola di pensiero col cazzo che Kevin Feige ti diceva sì sì nel primo teaser fammi vedere Red Hulk ci sono anche stati degli inconvenienti ovvero questo film sarebbe dovuto arrivare l'anno scorso addirittura sì però poi rinviato a maggio di quest'anno e poi nel frattempo c'era la linea produttiva dei giocattoli del McDonald's in America dove c'era Red Hulk quindi segreto di Pulcinella però ad ogni modo qui si sono sbilanciati si sono dichiarati non solo c'è anche un accenno di storia abbastanza semplice ma il presidente vuole intruppare Falcon vuole renderlo di nuovo un simbolo fulgido dell'America a prescindere quindi un simbolo patriottico magari anche un veicolo pubblicitario e poi accadono cose la Casa Bianca che va giù Giancarlo Esposito un gigante non di Giada ma di Rubino di Rubino parentesi Giancarlo Esposito non è che mi ingannano secondo me si vedrà pochissimo è un problema no dipende dal ruolo del personaggio nel film ovvio che qui sia un po' una cartina tornasole ma se ci basiamo su quello che ci ha detto lo presentano qui e poi lo ficcano in una serie tv immagina tipo già noi per esempio in questo trailer vediamo Sam che ha il costume bianco e poi il costume quello finale quindi immagina anche tipo un'alternanza un saluto un saluto andro grazie ragazzi un bacione ci vediamo venerdì prossimo ciao belli ciao a parte questo il montaggio è ben fatto quindi a livello di colonna sonora ne abbiamo parlato tanto oggi ma come colonna sonora montaggio la confezione è ottima gli effetti visivi per quello che si può valutare un pochino traballanti ma è un po' respirato forse perché ci siamo informati abbiamo letto tanto ma la sensazione che fosse un trailer montato con il girato che hanno bene o male a disposizione in questo momento tra film originale e reshoot ce l'ho avuta ma va anche bene così perché poi e saluto anche la Svet ciao amici ciao amici recuperatevi tro in Altamura ciao ciao quello che conta al di là di tutto è un elemento che ho visto evidenziare poco ma che invece per me è fondamentale al centro di questo trailer c'è il nuovo Capitano America esatto c'è Sam Wilson lui e solo lui non stiamo speculando su camei di merda c'è questo c'è quell'altro è un film su Sam Wilson c'era chi si aspettava Hulk ma magari nei prossimi trailer lo si vede Bruce Banner ma io vedendo queste immagini non ne ho sentito minimamente la mancanza anche perché e ogni volta quando lo dico scoppia il finimondo ma Red Hulk lo dovrà sconfiggere Sam Wilson se Red Hulk è la minaccia principale del film sarà Wilson a doverlo abbattere non Hulk è il battesimo del personaggio se ci sarà Hulk Davide contro Golia io ve lo anticipo ma se ci sarà Hulk Giobba in termini wrestlingiani perde Hulk Rosso lo pesta come una zampogna Hulk Verde segnatevelo poi magari sto sbagliando sto prendendo luce per lanterne ma quindi questo si chiama Captain America Brave New World e dobbiamo emergere dalla visione pensando cazzo che figo che è questo personaggio perché purtroppo hai ragione anche poi se lo batte non è detto che debba ucciderlo per non poter dare poi a Hulk una chance in un prossimo film no no infatti a parte che Harrison Ford secondo me ti fa questo e tanti saluti però non si sa mai ma finora poi io non sono neanche catastrofico lo sapete ma l'MCU forse ha fallito nel presentare i nuovi personaggi poi Sam Wilson in realtà è vecchio ma ovviamente si trova in panni inediti addirittura sostitutivi e ciò che conta è che si veda il film e si senta la voglia di ritrovarlo questo nuovo Capitano America deve risultare credibile come guida degli Avengers come leader spirituale di altri eroi c'è proprio questo bisogno e magari lo ripeto nel secondo trailer arrivano Hulk suo figlio Betty Ross che comunque dovrebbe essere confermata arriva Sabretouf e c'è Reed Richards già e poi troviamo Tobey Maguire però fin qui c'è lui e io godo tantissimo perché della parata di Kamei mi sono rotti i coglioni già da tempo quindi bene che poi l'ho già detto anche in Deadpool e Wolverine magari ora negli spot emerge qualcosa ma nei due trailer i Kamei sono o al minimo sullo sfondo o comunque seguono loro due assolutamente e anche questo mi piace mi piace un sacco anche un film che si baserà molto sui Kamei almeno nei trailer no no il Kameo cioè l'unico che ti attira perché viene da altro è Wolverine che comunque è nel titolo e quindi è giustificato che lo vedi sì un coprotagonista con i fatti quindi se ne lo si vede tanto e nel primo trailer non si vedeva c'era solo l'ombra quindi comunque c'è teninato pure lui sì 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 quindi per me è un trailer promosso ripeto non esaltante ho già visto tanti appassionati che si stanno spirticando i lodi forse perché il livello dell'hype è così basso che basta ritrovare dell'atmosfera un po' spy movie thriller non c'è la gag allora ci si entusiasma per me fa il suo effettivamente mi è venuta più voglia di vedere il film che già mi incuriosiva però poi dobbiamo aspettare un trailer più completo per sapere maggiormente dove stiamo andando e come ci dobbiamo orientare ma pollice in alto intanto torniamo con i piedi per terra dopo tanto tempo perché tanto cosmo tanto multiverso ora torniamo un po' infatti ne sentivo la mancanza anche a livello di poca originalità può essere vero ma dopo un sacco di film sopra le righe campettosi paradossalmente diventa nuovo ritornare a Winter Soldier almeno questa è la percezione che ho avuto io poi magari sarà una banalità una storia ma poi la mia è appunto una preoccupazione ed è ripeto il film deve smentirmi cioè poi non è che non farà cagare perché poi vediamo bene ecco una ultima cosa se proprio vogliamo fare i precisini della fungia appunto c'è lì Ross che gli dice eh cap lavora con me fidati di me sì perché che finora ha funzionato fidarsi di Ross mi dice anche lavora tu vecchiaccia che io sono creatura non posso lavorare vorrei ricordare che se Sam è stato un fuggitivo per anni è colpa di quello lì eh eh sì è vero cioè non vorrei dire ma io sono in Sam prima cosa che lo facevo va bene la sperla sto stronzo è la pelle dura è vero la vecchiaccia aveva la pelle dura io sono creatura non posso lavorare